dello Sport Day per cominciare a giocare. La macchina del gelato. Fai una pausa dai giochi per preparare un delizioso gelato. Tocca gli ingredienti per aggiungerli alla scodella. Assicurati di aver messo tutti gli ingredienti nella scodella. Uovo. Zucchero. Panna. Latte. Muovi la frusta per mescolare gli ingredienti insieme. Sta tutto nel continuare a mescolare. Hai fatto il gelato! Ora, scegli due dei tuoi gusti preferiti. Mh, fragola. Mh, banana. Ora, muovi il cucchiaio per mischiarli tutti insieme. Sta tutto nel continuare a mescolare. Mh, che splendido colore! Tocca la macchina del gelato per versarvi il composto. Solo Madame Gazella può accendere la macchina del gelato. Madame Gazella ha acceso la macchina del gelato! Scegli un contenitore per il tuo gelato. Tocca la macchina per versare il gelato nel cono. Tocca la glassa che vuoi aggiungere al tuo gelato. Mh, lampone! Tocca e trascina i tuoi condimenti preferiti sul tuo gelato. Sembra delizioso! Ora, aggiungi delle decorazioni per rendere il tuo gelato super speciale! Tocca e trascina le tue decorazioni preferite sul tuo gelato. Che fantastico gelato! Complimenti! Hai vinto uno sticker! Finito e pronto da mangiare! Scegli una competizione dello Sport Day!